della sua specifica identità sessuata oppure chi intenzionalmente pretende di negare, di manipolare, di trascendere la sua identità sessuata come quel giovane australiano che ha ottenuto dal giudice del suo paese che venisse cancellata dalla carta d'identità la sua qualifica sessuale, sesso, maschio o femmina. Lui ha preteso che quel dato venisse meno, indipendentemente dal fatto che lui si ritenesse uomo o donna se fosse un transessuale, indipendentemente dalla sua rivendicazione di gender, il suo obiettivo era non voglio essere nominato pubblicamente come sessuato. Ecco, una pretesa del genere, non so se avrà futuro, però intanto in Australia ha trovato accoglienza da parte di un giudice la pretesa di negare la propria identità sessuata comporta inevitabilmente la perdita della relazionalità che vincolandoci agli altri uomini costituisce la radice del nostro io. Di qui un paradosso, quello di non poter propriamente qualificare come sessuale un rapporto che pur apparendo prima face, espressione delle pulsioni sessuali di un soggetto, sia privo di autentica qualità relazionale. La sessualità è relazionalità. Ove la sessualità si manifesti al di fuori della relazionalità, non merita di essere chiamata propriamente sessualità. Ed infatti, nello stupro, il rapporto è privo di ogni carattere personale. Il violentatore va alla ricerca di un corpo su cui esercitare violenza, non di una persona cui relazionarsi. Chiamare ritenere propriamente sessuale il rapporto di stupro significa diffamare la sessualità umana e ridurla ad un rapporto puramente biologico come potrebbe essere quello che si attiva tra gli animali. Ma qualcosa di analogo, ovviamente con tutte le differenze che dobbiamo fare, possiamo dire a carico di ogni parafilia non è autenticamente relazionale e quindi non è autenticamente sessuale, un rapporto sessuato che prescinda dalla differenza dei sessi o che orienti l'individuo a rapportarsi a se stesso, agli animali o alle cose. si osservi che qui non voglio negare la possibilità che questi rapporti siano caratterizzati da forti investimenti affettivi voglio piuttosto negare che questi rapporti di parafilia siano propriamente relazionali nel senso autentico che dobbiamo dare al termine relazionalità che è un senso antropologico. nell'omofilia, per fare l'esempio più delicato, più scottante, più controverso ma non è che rimuovendo questi problemi rendiamo omaggio alla verità delle cose o alla nostra funzione di studiosi nell'omofilia si nasconde l'amore per l'identico o si manifesta a seconda di come vogliamo dire l'amore per l'identico, cioè l'amore per se stesso supportato frequentemente da un'indebita paura per l'alterità rappresentata dall'altro sesso sotto l'apparenza della relazionalità il vincolo omosessuale esprime la solitudine radicale di un soggetto che non è in grado di uscire fuori da se stesso si osserva inoltre che in questo discorso che ho appena fatto non entra sotto alcun profilo la caratterizzazione delle parafilie come perversioni la perversione se è un concetto scientificamente adeguato non è un concetto antropologico, potrebbe essere un concetto psicopatologico e in questo senso mi guardo bene dall'usare questo termine che non appartiene alla prospettiva antropologica che vi ho proposto la finalità dell'analisi che abbiamo fatto è stata semplicemente quella di pensare la sessualità in primo luogo come dinamica antropologica e non come dinamica genericamente biologica e di spiegare in secondo luogo la sessualità come dinamica relazionale e in terzo luogo come dinamica relazionale non simmetrica ogni volta che nella sessualità cerchiamo un'impossibile simmetria come appunto abbiamo per esempio nell'omofilia manchiamo il bersaglio cioè paradossalmente neghiamo la specificità strettamente umana della nostra identità sessuata qui mi fermo sapendo bene che a questo punto si pongono infiniti problemi tra i quali a me sono particolarmente cari evidentemente i problemi giuridici ma non potremo mai dire nulla né di giuridico né di sociale né in senso lato di scientifico se a mio avviso non partiremo da una riflessione antropologica come quella che vi ho proposto grazie a tutti grazie a tutti